La decisione presa nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente in Europa a Lussemburgo sostanzialmente conferma il bando ai motori endotermici al 2035, per cui in qualche modo conferma la decisione presa dal Parlamento qualche settimana fa e la proposta della Commissione di luglio del FIT 455. Due però considerazioni importanti. La decisione del Consiglio inserisce un paio di aspetti nuovi. Il primo è che nel 2026 la Commissione dovrà verificare lo stato di andamento dell'adozione della mobilità elettrica in Europa, capire se da un punto di vista per esempio sociale non sta provocando gli impatti importanti, capire anche la diffusione delle infrastrutture di ricarica se sono in linea con gli obiettivi numerici delle immatricolazioni e nello stesso tempo l'altro aspetto importante che è stato in qualche modo inserito nella deliberazione del Consiglio è che c'è la possibilità al 2035 anche di vendere autovetture, veicoli come c'è i leggeri, alimentati con biofuel o ibride plug-in, ammesso che queste due tecnologie siano in grado di emettere CO2 zero, per cui se fossero carbon neutral ci sarebbe la possibilità di aprire appunto a queste tecnologie, per cui in qualche modo è stato riconfermato l'approccio, il principio della neutralità tecnologica su cui noi come Anfia ci battiamo da tanto tempo. Grazie Grazie